È una serata di cui siamo veramente orgogliosi perché il nostro paese ha tantissime famiglie illustri e quindi poterle presentare soprattutto famiglie che sono comunque del nostro territorio è una soddisfazione incredibile, un onore incredibile. Quindi è una serata dalla quale siamo veramente contenti e ci auguriamo che anche chi interverrà potrà apprezzarla. C'è la storia dietro a queste famiglie, la storia fatta anche di percorsi di tanti decenni di obiettivi. Sì, diciamo che la storia poi segna anche quello che viene fatto. È chiaro che quando una storia è molto lunga vuol dire che quello che è stato fatto è decisamente importante. Le famiglie di cui si parlerà questa sera hanno una storia lunga e gloriosa e quindi vuol dire che hanno operato nella maniera giusta e hanno dato lustro al nostro territorio, al nostro paese. Le vostre iniziative passano anche dalla cultura, oltre che dal sociale, oltre che dagli aiuti alle scuole? Assolutamente. Ci sono vari ambiti nei quali opera il Rotary. Sicuramente una di queste è anche la cultura, la scuola, l'assistenza, l'ambiente. Quindi sono tutte tematiche che per noi sono importantissime e sulle quali spendiamo le nostre serate proprio per richiamare questi valori.